Vorrei farvi vedere la telecamera perché ho la luce che gira, rossa, blu, verde, bianca. E poi questo background, ragazzi, che è tremendo. Mia moglie dice, no, sembra l'inferno. A me sembra la creazione, non l'inferno. Comunque, andiamo a quello che volevo discutere quest'oggi. Carissimi, in questi ultimi anni ho parlato delle radici cristiane della festa del ringraziamento. Li sarendo ai pellegrini, ai puritani. Però quest'anno vorrei parlare solo del ringraziamento, non della storia. Perché guardandomi intorno, devo dire che vedo meno ringraziamento in giro del solito. Il filosofo romano Cicerone disse, la gratitudine non è solo la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre. Ma aspetta un attimo però, la gratitudine e la riconoscenza sono la stessa cosa? Diamoci un'occhiata da vicino. Ora, quando ci accade qualcosa di buono, di eccitante, siamo inclini a essere riconoscenti. Quel regalo che ricevi o la bella notizia, di solito generano questa sensazione di calore. Ma come molti sentimenti però, alla fine svanisce. La riconoscenza è una risposta emotiva temporanea a una circostanza temporanea. E siamo stati educati a dire grazie quando ci viene dato qualcosa di bello o ci viene fatto qualcosa di buono. È la dimostrazione di un apprezzamento verso gli altri. E questo può darci un atteggiamento positivo, ma non è sufficiente a mantenerci in una mentalità positiva. Appena accompagnano delle cattive notizie o degli ostacoli, quella sensazione di calore scompare. Quindi se vogliamo mantenere un atteggiamento positivo, dobbiamo fare affidamento su qualcos'altro. Un modo pratico per farlo, e devo praticarlo anch'io perché non lo faccio spesso ragazzi, è esprimere gratitudine. Se la riconoscenza è un'emozione, la gratitudine è una nostra scelta. L'apprezzare in qualsiasi circostanza. Vuol dire essere riconoscenti, ma è più grande di questo. La gratitudine significa esprimere riconoscenza e apprezzamento per la vita quotidianamente. Anche quando non succede nulla di eccitante. Quando sei in ritardo al lavoro e il traffico è più lento del solito, o il tizio ti taglia la strada. La gratitudine è quel sorriso sul tuo viso quando raggiungi la destinazione. La gratitudine è la tua decisione che la giornata è una buona giornata, anche quando le prove indicano il contrario. Proprio come la differenza tra felicità e gioia. Non hai bisogno che accada qualcosa di buono per provare gratitudine. E quando accadono cose brutte, la tua gratitudine non cambia. Giovanni 16,33 dice Quindi come possiamo farci coraggio realizzando che Cristo ha vinto e possiamo trovare pace in Lui. E a volte ci chiediamo quale sia la volontà di Dio. La cerchiamo, la chiediamo e sembra difficile capirla. Beh, ho un'altra risposta per noi, per te e per me. In primo Tessalonicesi 5,18 si legge RENDETE GRAZIE IN OGNI CIRCOSTANZA Questa, infatti, è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Semplice, no? Uno degli esempi più eclatanti è Corey Tambun e sua sorella Betsy, che hanno nascosto degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. E sono finite in un campo di concentramento a Ravensbruck. E se avete letto il libro Il Rifugio Segreto, forse ricorderete questa storia. Dice così Poco dopo essere arrivate, Corey è infastidita dalle pulci e grida a sua sorella Betsy, come posso vivere in un posto simile? E come una santa, Betsy rivolge la domanda a Dio. Mostraci come Corey ricorda Fu detto con tale naturalezza che ci vuole un momento per capire che stava fregando. E poi Betsy, con entusiasmo, spinge Corey a rileggere il passaggio delle scritture della mattina. Di nascosto, Corey estrae la sua Bibbia e legge da primo Tessalonicesi 5,18 «Rendete grazie in ogni circostanza». Interrompendola, Betsy esige che facciano un elenco di ringraziamenti. E anche se scettica, Corey segue il suo esempio. «Grazie Gesù per il fatto che siamo compagni di baracca e che la nostra Bibbia non è stata scoperta e confiscata durante l'ispezione». Ma quando Betsy prega «Grazie per le pulci» Corri la ferma «No, questo è troppo, Betsy, nemmeno Dio può farmi essere grata per le pulci». Betsy insiste fermamente, ricordando a sua sorella «Rendete grazie in ogni circostanza». Non dice «Nelle circostanze piacevoli». Le pulci fanno parte di questo luogo dove Dio ci ha messo. Sì che passano delle settimane e le sorelle non sono mai state scoperte per avere guidato questi studi biblici clandestini e non riescono a credere che le guardie non se ne siano mai accorte. In realtà non sono mai entrate nella loro baracca. E poi Betsy, sentendo una conversazione tra le guardie, capisce il motivo per cui le guardie si tengono lontane da loro. È a causa delle pulci. Questa storia è un bellissimo esempio di come praticare la gratitudine anche in mezzo a una dura prova. E queste sorelle non hanno chiesto di rimuovere la difficoltà, ma hanno offerto ringraziamenti perché avevano fiducia nella sovranità di Dio. E la gratitudine è proprio questa, la risposta del nostro cuore alla grazia di Dio. Uno studio recente dell'Università di Berkeley, UC Berkeley, afferma questo. La gratitudine potrebbe essere associata a una migliore salute fisica e psicologica, a un aumento della felicità e della soddisfazione nella vita, a una diminuzione del materialismo e molto di più. La gratitudine è l'essere contenti fisicamente o mentalmente dello stato della tua vita. E potresti non essere sempre felice, ma puoi sempre praticare la gratitudine. Al contrario invece una persona orgogliosa raramente è una persona grata, perché spesso pensa di non ricevere quanto si meriti. Se vuoi vivere una vita piena piuttosto che una vita afflitta, smetti di lamentarti e inizia a essere grato. Quindi in questa stagione fai un inventario della grazia che il Signore ha elargito a te e ne sii grato. Ricorda, sei tu in controllo del tuo atteggiamento. Fallo diventare un atteggiamento grato. Cari ragazzi, vi ringrazio di nuovo anche quest'oggi, vi ringrazio anche quest'oggi e ci sentiamo settimana prossima. Ciao!